Ciao, sono Luca Manelli e in questo breve video voglio parlarti dell'oggetto conci d'angolo. L'oggetto conci d'angolo è un elemento della libreria di Archicad, è un elemento parametrico che trovi all'interno della cartella muri extra. Una volta selezionato l'oggetto, puoi all'interno dei parametri scegliere lo stile del concio che può essere di tre tipologie doppio e delle stesse tre tipologie singolo e una volta che scegli la tipologia di stile hai una serie di parametri che ti permettono di gestire l'angolo, il dimensionamento 2D e il dimensionamento 3D. Io ora vado a posizionare questo oggetto sull'angolo che mi interessa visualizzare. Una volta posizionato in pianta ha un bel aspetto grafico, una volta visualizzato in 3D hai la possibilità di gestirne la quota, se sei identica cosa la puoi fare sempre all'interno dei parametri, ora lo vado ad appoggiare al marciapiede che ho all'esterno e puoi controllare il dimensionamento dei singoli conci della fuga e dell'altezza dell'oggetto attraverso gli hotspot dinamici. Nel mio caso vado ad alzare l'oggetto e attraverso la gestione degli hotspot dinamici dei singoli conci puoi andare ad allargare o restringere il primo concio, nel mio caso lo porto a 60 centimetri e per quanto riguarda il secondo concio lo faccio di 50 centimetri. Questo per quanto riguarda la larghezza. Poi puoi andare a gestire l'altezza del primo concio e lo spessore della fuga. Il risultato che puoi ottenere per andare a rivestire l'angolo del tuo edificio può essere questo. Puoi anche decidere di cambiare la tipologia di stile, allora in questo caso avrai la possibilità appunto di andare a definire uno stile differente e immediatamente l'oggetto si andrà a parametrizzare sulla base delle scelte che hai fatto.